L'amore la insegue, ma lei corre più veloce. Bella, brava, ma soprattutto bionda, la sexy Francesca Isopi! Francesca, buonasera! Buonasera. Allora, 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 allora. Vediamo un po' di conoscerti meglio. Il tuo nome l'abbiamo detto. La tua età, se vuoi dirla. 22. Come? 22. 22, dillo bello forte dentro il microfono. Hai come il mio... no, nel senso... ok, andiamo avanti. Come il tuo pene? No, no, il mio... nipote. Hai indicato... Nipote, nipote. Nipote, nipote. Come gli euro che ho in tasca, 22. Ah, vabbè, vabbè. 23, comunque. Ne ha 2,2. Da dove vieni, carissima Francesca? Da San Benedetto. San Benedetto. Sei etero, sei lesbica o sei indecisa? Etero. Etero, però ci ha pensato. Una leccatina, mi sa che... Gianluca, ci ha pensato troppo? 27 anni la leccatina l'abbiamo. Anche ci penso sempre. Bene, bene, bene. Allora, 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 allora. Vediamo. Sei single, sei accoppiato o sei indecisa? Indecisa. Indecisa, indecisa. Non lo sa, non lo sa, non lo sa. No, no, no. Forse non lo sa lui. Lei lo sa, ma lui non lo sa. Non lo sa lui. Non lo sa lui, non lo sa. Quindi è finanzato a già il 50%. A 50%. È già tanto. Sì, 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 sì. Un 50% sicuramente fallimentare, ma dici il tuo segno zodiacale. Bilancia. Scusami. Bilancia. Bilancia. Stella, vediamo un po' cosa ci dice il segno della bilancia. Stella, come la possiamo chiamare? Se Paolo è Fox, quindi Volpe. Stella è pecorina, come Pepe, piccola pecora, leone. Per me Stella Dog ci sta, però. Dog? No, in onore di Thor, Stella Dog. Stella Dog. Stella Dog. A cane, gli stai dando la... No, era perché c'era il cane, Fox, tre lettere. I maschi che lei ha a casa sono tutti con il guinzaglio, quindi potrebbe essere Stella Dog. Stella Dog ci piace, vai. Andiamo. Allora, mi raccomando, vai Stella, scandisci bene. Il profilo sessuale ed è il segno più edonista dello zodiaco. Il segno più bello ed esteta dello zodiaco. È una sorpresa in tema di sesso. Tutt'altro che facile, come gli altri segni, doppi, ha una natura ambivalente, capace di molte contraddizioni con una noncialanza incredibile. Governato da Venere, pianeta d'amore e bellezza, la bilancia non può fare a meno di considerare la vita come un susseguirsi di momenti in cui piacere, piacere è ancora piacere. Aspetta un secondo, Francesca, ti ci rivedi? Sì, lo so, faccio così. Aspetta un secondo. Ti ci rivedi, Francesca? Sì, molto. Ti ci rivedi molto? Moltissimo. Bene, Federica, cosa stai facendo? Federica, si è abbassata sotto là. Ti ci rivedi molto? Bene, andiamo avanti, Stella Dog. Soprattutto, alla ricerca della perfezione e dell'edonismo. Edonismo. Vai, vai. Io ho profondamente moralista e attento alle apparenze. Ah, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta. Ti ci rivedi? Tantissimo. Tantissimo, ragazzi, non ho mai tantissimo di Francesca. Ci si rivede. Ci si rivede. Andiamo avanti, Stella. Un dandy che con eleganza fa il monogamo, ma che sotto sotto amoreggia per il semplice e legittimo gusto di piacere al mondo. Più che il sesso e l'atto fisico, la bilancia mantiene un distacco emotivo quasi pari a quello dei capricorni. Eppure la sua natura è sentimentale, gentile e profondamente giusta. Offre quanto gli viene offerto. Prova godimento se l'altro prova godimento. Aspetta un attimo, aspetta. Prova godimento se l'altro prova godimento. Se l'altro gode, lei gode. Sì. Ma quindi ti ci rivedi? Brava! Applauso! Io non ho capito, l'ha detto, no, bravo. Clonatela, clonatela sta ragazza. Non ti preoccupare Gianluca. Vedi, queste cose così negli show, no? È più importante l'intenzione che il contenuto. Mi piace dare, ma devo ricevere tanto quanto... Certo. Brava, brava. Ricevi, ricevi. Cioè tu godi due volte, a godere e a far godere. Giusto? Ecco qua, vai. E se non ti lecchi le dita? Godi solo a metà. Esatto, esatto. Come in un accordo non scritto, alla nomè di grande amatore, poiché i suoi modi affabili e seducenti riescono a mettere a proprio agio anche i cuori più scottati e diffidenti. Impossibile non cadere nelle sue grazie, anche se è proprio necessario spogliarsi? L'apparenza per questo segno è tutto e i vestiti fanno il monaco, anche a letto. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Quindi mi stai dicendo che la lingerie, che determinate accessori sono importanti per te, Francesca? Vabbè, l'uomo alternativa è boxer. 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 Eh, o slip. Che in questo caso preferiamo cosa? Boxer o... Il boxer. Boxer, boxer. E basta. Non altro, diciamo, no? Non altro. Eh. Anche i calzini li guardo, però. Il calzino lo guardo. Il calzino è imbarazzante, no. Però il calzino ce lo leviamo. Ti è mai capitato l'uomo che fa l'amore con il calzino? Con il calzino. Sì. Sì, ti è capitato. Però... C'era una canzone di G-Ax che diceva, ma io uso il divoro d'or, quindi vabbè è uguale, dai. Però lo giustifico perché io non me li tolgo i calzini. Tu non te li togli i calzini? Perché? Perché è interessante questa cosa. Perché il poeta Marinelli, se fosse in vita ma è deceduto, direbbe che è peccato, che è peccato. Perché Marinelli è un fetichista. Perché non ti piacciono i tuoi piedi? Perché non ti senti sicura? Perché... Non ti piacciono i tuoi piedi? Per tutto quello che ho detto. Perché non mi sento sicura. Non ti senti... Non ti senti... Non lo so. Non ci togliamo. Podofobica. Niente. Non ci togliamo. Podofobica. Ma la staventata. Ma va bene, va bene. Podofobica. Podofobica. Abbiamo coniato un nuovo termine. Vai, vai. Io ho la brasiliana e i fantasmini in questo momento. Hai una brasiliana? No. No. Mutanda a Brasile. Sì, sì. No. Una brasiliana. No, no, no. Vabbè, non ce l'hai qua. C'è il cazzo che l'hai in tasca. Ho smesso col turismo sessuale da anni. Il turismo sessuale? L'ho smesso. Ma l'hai smesso tu, però, Sammetto. Me lo confermo. Cioè, in Brasile, prima che andassi tu, non si pagavano le donne. Il figlietto della Ryanair, per la Romania non è tuo. Guarda che Scartozzi mi ha dato mai in Brasile. Il turismo sessuale lo faceva a San Delpidio. Va bene, va bene, va bene. Mi è arrivata anche questa testimonianza. Però, facciamo andare avanti, Stella, se no la blocchiamo. Blocchiamo un'emozione. Vai. Tra l'eleganza di Venere e il rigore di Saturno, a letto si muoverà come un Casanova o una principessa firmata Chanel, con in testa tutte le perversioni degne di tutta la letteratura erotica. Aspettatevi di tutto, meditazione tantra inclusa. Aspetta, qua ti ci rivedi? E qua è tanta roba. Un po' troppo. È un po' troppo. No, perché... Parlo. Vai, vai, certo. Perché nessuno... Stavo dicendo a loro l'altro giorno, perché uno si confronta. Certo. Che nessuno mi ha mai fatto i complimenti. Loro chi? Come nessuno ti ha mai fatto i complimenti? Non ti ha fatto i complimenti nessuno? Cioè, nessun uomo? Ma che uomini hai avuto? Cioè, vai con Scartozzi. Sbagliata io. Sei sbagliata tu? Non lo so. Prima vai con Scartozzi e poi dopo vediamo. Che cos'è che non concepisci del tantra? Meditazione tantra inclusa. Sì, allora... Scusa, disturbatore Dennis. Non è che puoi fare domande troppo specifiche. Vabbè, ritorniamo da Fra Gianluca, che ci parliamo di peli pubblici. Bravo, bravo, bravo. Parliamo di boxer e peli pubblici e brasiliani. Io riesco a... Sì, ad abbassare il livello del programma. Allora, Stella, vai. Segni sì, leone, sagittario, toro. Segni no, cancro, pesci, capricorno. Poi, da evitare? La mossa magica che riconquista, fragole e champagne. Fragole e champagne. Da evitare cadute di stile e calzini bianchi. Ah, il calzino bianco non ci piace. Hai visto, hai visto, hai visto. E va bene, andiamo a incominciare, Emiliano. Facciamo qualche domandina a Francesca. Tocca a me? Tocca a te. Gli abbiamo detto i demi a Francesca. Ah, no, 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 hai ragione, non tocca a te. Aspettavo i demi. Bravissimo, bravissimo. Che cosa fai nella vita, Francesca? Studio. Studio. E qualche volta faccio visita al Jonathan. Qualche volta. Sporadicamente. Sporadicamente lavori al Jonathan. Allora, amore, amore, vedi, Emiliano ci teneva che io ti ripetessi le domande. Amore, passerotto, topino, cipolletto, moci moci, patatillo, tricci spicci, chicco cacca, tesorillo, mocioletto, microbino, patatuffolo, trottolino amoroso, tatone, cicciolone, pucciolone. Da un'indagine risulta che questi sono solo alcuni dei centinaia di nomignoli dell'amore. Li useresti mai e se sì, quali o piuttosto che usarli preferiresti? Di essere travolta da un Eurostar. Allora, questi in particolare non l'ho mai usato. E tu come lo chiami? Cicco cacca non l'hai usato mai. Però l'ho usato. Quale? Un nomignolo che ti... Lo dico, imbarazzanti. Dai. Ma non c'è problema. Momino. 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 Gianluca, aggiungi. Momino. Che cos'è Momino, scusami. Momino. Momino che... Cioè, perché ho visto un gatto una volta. Sì. Che c'ha dato nome. Sì. Allora decidi di chiamarci il ragazzo. No, nel microfono mi cina la bocca. Ok, ok. Così, perfetto. L'hai deciso di chiamarlo? Ho deciso di chiamarci il ragazzo. Momino. Momino. Perché il gatto si chiamava Momino. Ok. Altri, altri? Altri, tipo... Funghetto fa parte della... Salsiccetto. Salsiccetto. Applauso a Salsiccetto. Ti vogliamo bene. Brava, brava. Salsiccio. Brava. Come? Si chiamava Pompeo il gattino? Pompeo, Pompeo. L'avrebbe chiamato Pompeo. Allora, sesso. Sotto la panza c'è la sostanza. Sotto la panza avanza. Sotto la panza c'è la crianza. E altri detti che celebrano l'uomo vecchio stile con centimetri da esibire. Insomma, preferisci un uomo con la panza ma con una bella mazza? O un uomo tonico e palestrato ma con un membro che se la batte con la matitina dell'Ikea? Per esperienze brutte che mi hanno segnato. Brutte. Esperienze brutte. Sono state la mia giovane età. Ma scusa, non eri vergine tu? No. Ah no, scusa, bilancia, bilancia, scusami. In questo caso puoi dire breve carriera? Breve. Breve carriera, poca esperienza, ma quella mi è bastata per capire che è meglio panza. Meglio panza e mazza. Grazie! No, stai buono, stai buono. Perché penso che è una donna. Tu sei l'eccezione che conferma la regola. Non è vero. L'eccezionale. La mazza di Emiliano è invidiabile. Ma che... Lo so. 8 centimetri proprio al massimo della forma. Quindi panza però membro. Allora Emiliano, adesso tocca veramente a te. Allora cara Francesca, qui adesso entriamo veramente nel clou della tua intervista perché vogliamo sapere delle cose molto particolari su di te. Allora, che cosa pensi dell'amore? Allora, se tu dovessi descrivere l'amore con tre parole, quali sarebbero queste parole? Per descrivere l'amore, le tre parole più importanti per Francesca, quali sono? Emozione. Emozione. Fiducia. Fiducia. E rispetto. Fiducia, guerriero. Emozione, fiducia. A fiducia mi viene da fare... Tutti, tutti. Tu parli da uomo ferito. Ah, te l'hanno messa in culo nel senso metaforico. Emiliano, dai. Tu parli da uomo ferito? No. No. Non ti hanno mai... Non sei stata ferita? Mai? Mai. Ok, ok. Non parla da... Non parla da uomo ferito. Ci crede veramente. In amore, no? Sei arrivata alla venerabile età di 22 anni. Quindi in amore a 22 anni, guardando il tuo passato, sei stata all'oggi più fortunata o più sfortunata? Visto che sei singola e sei fidanzata al 50% con una persona che non lo sa, sei più fortunata? Sarà l'amico invisibile, l'amico immaginario. Ma soprattutto ti ci rivedi? Innanzitutto si fa così, aspetta. Si fa così, aspetta. Poi si punta il dito e si dice ti ci rivedi. Perché io punto al posto suo? Fortunata perché la fiducia e il rispetto in questa storia ci sono stati. Forse sfortunata perché l'emozione forte a cui io penso, quando parlo di emozione, forse non c'è stata. Ok. Quindi purtroppo non è scoccata, diciamo... Le tre cose sono importanti che... Ma sai perché non è scoccata? Che collidano. Perché non ti togli il calzino. Se ti togliessi il calzino... Ma non è vero. Perché dormire insieme, struciandosi i piedi, è bello. Dormire insieme, struciando i piedi sul calzino, è una... Lo so, è il mio limite che... Che cazzo è, le pietre focarie? No, si fanno le scintille sotto il letto, non va bene, dai, non va bene. Allora... Sì. Ecco. Vediamo, vediamo. Secondo, adesso andiamo... Questa è complicata, eh. Che altro, quando si sveglia raccoglie la polvere in tutta la stanza per l'effetto, comunque, elettrostatico... Fa l'effetto Swiffer. Effetto, il noto effetto Swiffer. Vabbè, prendi due piccioni con una fava. In amore, secondo te, questa è una domanda abbastanza complicata. In amore, ci vuole più testa o più cuore? Te la spiego velocemente. Se ci metti più testa, rischi di non innamorarti mai al 100%. Se ci metti più cuore, rischi di prenderla nel culo. Quindi, in amore, secondo te, ci vuole più testa o più cuore? Più cuore, perché anche se alla fine ce la prendi nel culo, come hai detto tu, almeno hai vissuto qualcosa di importante che... Brava, la pensi come me, molto brava. La faccia tecca giù, dritti come le arieti. Andiamo dritti. Quindi ti ci butti di testa. Brava, 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 brava. C'è anche il rischio che, dice Pastella? Che lo prende nel culo. E vabbè. E... È un piacere, potrebbe essere lì. Con piacere. Con piacere. Può fare male o può far piacere. Allora, cara Franci, andiamo avanti. Adesso io ti dico tre parole che sono amori, amici e amanti. Queste tre parole le devi associare a tuo piacimento ad altre tre parole che sono fedeli, temporanei e spensierati. Quindi, amori, fedeli, temporanei o spensierati? Amori? Spensierati. Amori spensierati, molto bene. Amici, fedeli o temporanei? Fedeli. Amici, fedeli, quindi amanti, temporanei. Mi sembra equilibrato. Sì, 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 direi di sì. Amori spensierati, amici, fedeli e amanti, temporanei. Mi piace. Va bene, ci sta equilibrando. Si è sempre fatto. Amanti temporali, pialo nel culo e un lampo. Gli amanti, ecco qua, a posto. Questo è come vento. Vabbè, gli amanti, ma gli amanti devono essere temporanei. Però, tu che ce n'hai tante, come sono gli amanti? Allora, al 366 70 52 110, Gianluca, sono Giorgio. Trovo ingiusto che tu non abbia avuto una parola per me lunedì scorso quando ti ho scritto. Ti ha scritto, ti ha scritto. Comunque, mi piace la tua voce, ma un po' meno il tuo slogan, perché a me, sinceramente, vento e palle piacciono di spalle. Ciao, cattivello. Bravo, Giorgio. Che cosa diciamo a Giorgio? Cosa diciamo? Bravo, cattivello. No, il vento è pericoloso, cioè nel senso... No, vabbè, allora diciamo la verità, Giorgio, le palle non sono un problema, però il vento può portare dei dolori, dei reumatismi che alla nostra età possono infastidire. Ma può anche spingerti un po' di più il vento, no? Cioè darti quella spinta che tu... Se mi fai la mano così... Devo farti così e poi così... No, vabbè, ma quindi saluti Giorgio... Saluto Giorgio affettuosamente da dietro. Affettuosamente da dietro, perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo avanti con l'intervista. Allora, caro Giorgio... No, volevo dire, cara Francesca, il tuo ragazzo ti pone davanti ad una scelta bizzarra. E ti dice, per questo giorno speciale puoi decidere tra tre cose un po' particolari. La prima, un trisom con me e il mio miglior amico, fighissimo. Seconda scelta, ti concede una scappatella con chi vuoi e non ti porto rancore. La terza, te lo metto in culo, quale sceglieresti? È una scelta difficile. La uno, la due, la tre. È una scelta difficile. Che ne dici, Francesca? La tre. Ti amo! Hai detto proprio la cosa che fa salire la pressione a Emiliano. Applauso, cazzo! Io vorrei sottolineare e rileggere le domande, perché lei ha detto la tre. Adesso la rileggi. La tre. Te lo metto in culo. No, Emiliano, non c'era bisogno di sottolinearlo. Approve. Comunque, va bene, va bene. Ha dato la sua risposta, diciamo, più sincera. Che era, te lo metto in culo. Dai! Ho capito, hanno capito tutti. Allora, dopo la risposta tre, che era, te lo metto in culo. No, basta, Emiliano, andiamo avanti. Usciamo da questo luogo. Ormai, nel 2017, il sesso brucia, più giga che calorie. Tu, hai mai fatto sesso online? Sesso online? Questo caso bruciava qualcos'altro. Mai. Niente. Mai. Niente sesso online. Neanche in culo, no? Cioè, non hai fatto sexting, quello che adesso si dice sexting. Cioè, mandare foto, provocare online. Mai, mai, mai. E non lo fate, ragazzi, perché andate in internet in quattro secondi, poi vi troviamo impiccate sotto al fondo dell'album. Lo sai che Gianluca ha un canale su YouPorn e lui non lo sa? Se vuoi, dopo ti do il link. Non so neanche che cos'è YouPorn. Però c'è, però c'è. Il canale potete seguirlo tutti a Scartozziamoci Tutte. Scartozziamoci è bellissimo. Domani apro la pagina su YouPorn, Scartozziamoci. Scartozzare, tu lo sai cos'è Scartozzare? No, no. È sbucciare il mais. No, il mais. La panocchia è un discorso. La panocchia, sbucciare la panocchia. Anzitutto alla fine rimane il turo. Il turo, il turo. Bene, bene. E fa rima con? Non lo so, Arturo. Con te lo metto in culo. Allora, facciamo il gioco, Emiliano? Ricordiamo che la terza risposta era te lo metto in culo. No, ma dai, per favore. Stiamo scherzando, ovviamente. Facciamo un gioco, l'associazione di parole. Francesca, e poi ti lasciamo libera ai tuoi molteplici impegni. No, no, rimani che poi ti chiediamo qualche opinione. E ricordo al ragazzo che ha finanzato con lei al 50% che lei ha scelto te lo metto in culo. Che è ora che la giri. Allora, a parte gli scherzi, dai, Francesca è simpatica, sta giocando con noi che siamo dei deficienti. Siamo deficienti. Ok, allora, associazione di parole, io ti dico delle parole, tu mi dici la prima parola che ti viene in mente, senza pensarci. Se ci pensi troppo, vado avanti, puoi dirmi passo, va bene? Ciao Fabrizio e tutti gli amici in room. Ciao Fabrizio, ciao gli amici in room. Allora, vacanza. Mi devi dire una parola, vacanza. La prima parola che ti viene in mente. Vacanza. Alcol. Alcol. Facciali. Allora, nel sondaggio, siamo arrivati a quasi 45.000 ascoltatori e ti amano in 35.000. Allora, sole. Sole. Mare. Mare. Va bene. Va bene, va bene. Quello proprio... Regalo. Vieni Silvio, vieni. Regalo, passo. Carta di credito. Carta di credito. Regalo, carta di credito. Pula. Pigeama. 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 Calzino sì, pigeama. Calzino sì, pigeama. Banana. Se diceva flanella era peggio. Buona. 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 Grillo cantante. Grillo cantante. Passo. Passo. Pistola. Passo. 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 Mela. Mela. Una mela al giorno toglie il medico di torno. Grilletto. 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 Glitoride. Glitoride. Ah! Grazie. L'amore esce dai pori della pelle. L'amore esce dai pori della pelle. Ma non suggerite... Mutandine. Mutandine. Non è l'esame di stato. Perizoma. Sedia. Passo. 90 gradi. Pecorino. Ah! L'amore, giusto. Potevi dire lavatrice. Va bene, va bene. Eh, non la so. Gianluca sta scrivendo una canzone d'amore per te. Hai disegnato le tette, Gianluca. Vestiti. Però l'ho trasformato in Homer, però è fatto. Dopo la facciamo vedere alla telecamera. Vestiti. Corti. Corti? Corti. Cor, va bene. Armadio. Passo. Letto. Grande matrimoniale. Divano. Di pelle. Fiori. Tulipani. Cioccolatini. Non mi piacciono. Doccia. Fredda. Tramezzino. Buono. Vibratore. Non lo uso. Perizoma. Lo uso. Bilanciere. Non è l'indaginista a te. No. Non lo uso, non lo uso. Va bene. Se il suo... Però il 36% della popolazione non usa il vibratore. La prima parola. La prima parola che è venuta è quella. Però non è un'indagine. Ha ragione. Io vorrei dire in diretta che amo Scartozzi. Allora, bilanciere. Dicevi bilanciere, quello per fare i pesi. Bilanciere. Vabbè, passo, passo, via. Tavolo. Tavolo. Ci mangio. Mangio. Sfumature. Di nero. Di nero. Hai capito. Succhiata. Succhiata. Di nero. Bel nero. Succhiata no. Passo. Succhiata. Passo ridendo. Passo ridendo. Diventata rossa. Si è sentito. Orologio. Passo. Passo. Orata. Il pesce, l'orata. Orgasmo. Magari. Magari. Magari è indicativo. Scartozzi, scusa, ma magari è indicativo. Su orologio avrebbe dovuto dire mezzogiorno, secondo le vostre menti perverse. No, guarda che è un gioco di associazioni di parole. Perché su fiori che cazzo doveva dire? Gambo lungo. Che cazzo dici? Ecco. La dissidenza e la contradissidenza. Termosifone. E' così che funziona. Termosifone. Questa è la radio che ci piace. Termosifone. Inverno. Cappello. Non lo metto. Non lo metto. Cappella. Bella. Cistina. Come bella? Bella, ha detto bella. Ha detto bella? Arima. Bella, bella. Bella, bella. Applauso alla Cappella che è bella. Cappella, bella, segnatelo. Ha segnato Cappella. E la terza risposta di prima. Allora, prima di salutare Francesca, ricordiamo che la terza risposta era... Sì, sì, nel culo mi sembra. No! Beh, scartozzi, per favore. Secondo me era nel culo. No, basta! Non era assolutamente... Avete frainteso la risposta di Francesca. No, no, ha detto proprio il culo. Era nel momento nel culo. No. Stella! No, 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 no. Ma anche tu ti ci metti. Allora, io volevo ringraziare per la simpatia, per essere stata a gioco con noi, per essere stata veramente simpaticissima, il culo di Francesca Isopi! Facciamo un applauso a Francesca Isopi. Allora, io direi che Gianluca può tracciare il...